Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video in cui andiamo a fare un po' di analisi tecnica di quella bella spinta sui mercati e sulla price action. Andiamo a vedere un po' di Fibonacci Trading, Pattern Armonici, sapete che di tanto in tanto mi piace fare anche questa analisi, rappresenta comunque una porzione del mio portafoglio con cui faccio la mia operatività di fine anno. Quindi andiamo un po' a vedere qua, e volevo soffermarmi sul dollaro nei confronti dello yen, perché avevamo preso su quest'operazione il take profit, molto interessante da rapporto rischio rendimento 1 a 2, ma si sta formando qui, e l'ho visto su 4 ore ragazzi, un pattern armonico sul 4 ore, eccolo qui. Allora, fatemi un attimo rimetterlo qui, me lo vado un secondo a disegnare intanto a vista, poi vediamo se effettivamente avevo ragione. Ed è da qui X, A, A, B, B, C, C, D, dovrebbe appena essersi formato, se non sbaglio, essere vicinissimo. È un Cypher Pattern ragazzi, andiamolo a vedere adesso con Fibonacci. Ormai alcune cose riuscirete a vederle ad occhio, eccolo qui, infatti questo è corretto. E fatemi vedere se c'è anche l'altra parte. Perfetto, tocca il 127. Ok, ci sono le regole per il Cypher, allora ve lo vado a disegnare. Guardate, X, A, A, B, e poi l'ultima parte, adesso vediamo anche se è completata, da qui. No. Perché ragazzi, fatemelo vedere meglio, scusate, non si è completato ancora per pochissimo, quindi vuol dire che questa è un'opportunità calda. Eccolo qui, infatti, eccolo qui, casca sul 78,6. Bene ragazzi, questa è un'opportunità molto interessante, del resto il prezzo è sceso molto, questo gap qua importante che ha avuto, è sceso molto. E vedete, adesso è in prossimità di due cose importanti, la media a 50 periodi sul 4 ore, poi c'è questa grande trend line dinamica, che cade molto vicino al primo impulso rialzista. Quindi qui dovete stare molto attenti al posizionamento dello stop loss, che come al solito deve andare da regole. Ragazzi, questi che vi sto facendo vedere non sono affatto consigli finanziari, sta semplicemente facendo con voi, diciamo così, ragionando per farvi vedere come un trader che fa analisi tecnica e Fibonacci Trading si comporta sui grafici. Dovete avere delle regole estremamente precise. Andiamo a vedere poi un altro, Audi USD, andiamo su questo cross e qui sul giornaliero, invece, time frame un po' più grandi. Vedete, anche qui siamo andati a prendere il take profit, con questa operazione di cui avevamo discusso insieme in passato. Qui era andato già in profitto questo cipher, vedete, eravamo entrati qua e eravamo andati a prenderci il profitto qui. Adesso, quello che sta succedendo è, fatemelo vedere meglio, si sta formando, allora, si sta formando un bel pattern molto ampio che tiene in considerazione anche questo, eccolo qui, guardate, lo disegno intanto, e disegniamolo di un altro colore, eccolo qua. Quindi, X, allora, da qui a qui, e poi ancora qui, perfetto, e l'ultima parte è questa, con completamento... Qui siamo ancora, manca ancora un pezzettino per il completamento, è un pattern rialzista, ragazzi. Vedete che adesso il prezzo sta sentendo questa struttura che vi avevo segnalato in passato, quindi qui potrebbe usarla come supporto e non crearlo mai questo pattern, ne potrebbe rientrare invece il tasso di cambio all'interno di questo canale in cui è segregato da molto tempo, oppure invece lo può creare e poi ritornare dentro. Quindi, in attesa anche qui, in questi casi, ragazzi, come faccio? Pensate che ogni giorno sto lì a guardarmi il grafico? No, io quello che faccio è che mi metto un bel alert, e lo faccio, adesso lo faccio qui con questa piattaforma, ma lo potete fare io anche, esatto, me li sono anche programmati io per alcuni mercati i radar, e questo comunque è un'altra operazione interessante. Quando scatta il radar so che sono vicino e che magari questo grafico, allora sì che lo dovrò guardare ogni giorno per sicurezza. Altra proposta o altra analisi che avevo guardato, EuroGBP, eccolo qui, qui ragazzi siamo in, guardate, qui è stato appena creato questo pattern che avevamo segnalato parecchio tempo fa, vedete, è stato creato qui, e qui adesso c'è quest'altra struttura e c'è quest'altro pattern più ampio, un cipher, quindi qui adesso la domanda potrebbe essere Marco, ma che devo fare? Devo entrare su questo che si è appena creato o devo aspettare che il prezzo arrivi a creare quell'altro? Ragazzi, come al solito, dipende dalle vostre strategie, io so perfettamente cosa fare. Altra opportunità la volevo vedere invece su una materia prima, andiamo sul CFD dell'Oil e andiamo sul 4 ore perché il prezzo del petrolio di nuovo è in caduta libera, guardate, era arrivato qui sulla media 200 periodi, guardate, primo impulso ribassista, ritracciamento, secondo impulso ribassista molto più violento, questo era un bellissimo ABCD pattern, adesso ve lo faccio vedere, guardate, il ritracciamento del primo impulso, guardate un po' dove è arrivato, è arrivato a sfiorare il livello 61,8, qui ha incontrato prima la resistenza della media 200 periodi, e poi si è formata questa seconda gamba, adesso usiamo l'inversione invece dei fibonacci, guardate un po' dove è arrivata questa seconda gamba, quindi ve lo faccio vedere bene qui, x, a, copio e incollo questa linea, vedete come questo secondo impulso è molto simile al primo come intensità, è solo stato più veloce, ok, ed è andato ad appoggiarsi proprio nel mio livello di attenzione che sapete essere l'area tra il 127,2 e il 161,8, e adesso sembrerebbe stia rimbalzando, stia rimbalzando per fare un ritracciamento e proseguire verso il basso? questo dipende dalla vostra visione della materia prima, quello che volevo farvi vedere io era invece questo pattern qui, fatemi un attimo ingrandire, forse lo vediamo meglio sul 4 ore, perché è un po' piccolino sul giornaliero, ah, siamo sul 4 ore, ok, allora, c'è anche qui un cipher che in realtà è informazione, ed è il seguente, allora, ce l'ho proprio su questo ABCD pattern, guardate, adesso ve lo faccio vedere, perfetto, non ha toccato il 61,8, quindi, x, a, a, b, e, b, c, c, dovrebbe essere qui intorno, adesso lo andiamo a misurare, non vi preoccupate, faccio a occhio, ma bisogna essere precisi, era leggermente, era un pizzico più sotto, ce l'avevo quasi preso, eccolo qui, e questo è un altro cipher, interessante, siamo ancora all'inizio, si è appena formata la penultima gamba, quindi c'è ancora tutto il tempo, e, ehm, è interessante vedere anche che cosa succederà, se quindi sarà più veloce la prosecuzione di un altro ABCD pattern, oppure il prezzo ritraccerà di più, tornerà verso la media 200 periodi prima di riscendere, anche qui noi saremo in, ehm, in ascolto, manca ancora un po', ma ricordatevi che stiamo sul, sul 4 ore, e quindi questo vuol dire che, eh, potrebbe esserci, potrebbero non troppi giorni passare per vedere, eh, formato il, il grafico. Chiudiamo con XAUUSD, quindi andiamo sul CFD dell'oro, sempre sul 4 ore, eh, l'oro molto nervoso, ragazzi, in questo periodo, vi ho detto più volte, ne abbiamo fatta l'analisi insieme, guardate bene che cosa fa il dollaro per capire cosa fa il, eh, il, eh, l'oro, scusate, non mi veniva il termine. Allora, qui volevo farvi vedere, eccolo qui, guardate, si è formato ed è andato, credo, già in profitto, io l'ho perso a dire la verità, però, mh, questo non vuol dire che non, mh, per, tanto, lo sapete che questi video non sono video di, eh, consigli finanziari, ma sono video invece di, per farvi vedere come si ragiona, e guardate qua, qui si era formato un bel cipher, da qui a qui, che è andato proprio sulla trendline dinamica, guardate che bello il prezzo, eh, lì sopra, si era formato, due, dovrebbe essere qui intorno, e di nuovo adesso non vi preoccupate ragazzi, ve lo vado a misurare bene, e mi piace sempre vedere se ancora ho occhio per i pattern armonici, infatti vedete, si è formato qua, e vedete che è andato praticamente in profitto, questa era un'operazione di breve termine, molto però interessante, eh, non era short ma è un long, quindi da qui, stop loss, qua dipende dalle vostre regole, dove, dove metterlo, diciamo qui, e take profit, operazione dal rischio rendimento, in questo caso uno a quattro, quindi bisogna vedere se per le vostre regole andava bene questa, eh, questo rischio rendimento, però, fatto sta che, eh, è andato in, in profitto, e adesso l'oro si trova in un momento particolare, perché sta sulla media 200 periodi, sul quattro ore, sta vicino alla trendline dinamica, c'è un dollaro che è molto forte, quindi quello che mi aspetto è che il dollaro, se il, se, scusate, il, l'oro, se il dollaro continua a salire, l'oro potrebbe continuare a scendere, rompere questa base qua, a 1264, dobbiamo vedere bene che cosa succede, ragazzi, per oggi è tutto, volevo fare con voi questa, eh, analisi, era un po' di giorni che non la facevamo, eh, un like se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un commento per dirmi invece qual è la vostra visione, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Ciao!